12 miliardi di euro all'anno. Grazie. Grazie a lei. Se nessun altro chiede intervenire, votiamo l'articolo 13, la votazione aperta. Grazie a tutti. Ecco, leviamo la propria, grazie, così noi proseguiamo un po' più velocemente. La votazione è chiusa. Presenti 385, votanti 358, saluti 27, maggioranza 170, farò di 270, contrario 88, la Camera approva. Siamo all'articolo 14, mi conferma il parere contrario, relatore? Al 14.1 Mannino? Sì, ok. Anche il Governo conferma il parere contrario. Se nessuno chiede di intervenire, siamo al 14.1 Mannino. Ah, chiedo scusa. Votiamo il mantenimento dell'articolo perché è soppressivo. Quindi non votiamo l'emendamento 14.1, ma votiamo il mantenimento dell'articolo 14. Stiamo votando il mantenimento dell'articolo 14. Stella Bianchi. Stella Bianchi. Ci siamo? Nuti. Onore Cardinale, la pregherei di accelerare, grazie. Anche Martino. De Lorenzis. Faudilli. Faudilli.